vi presentiamo oggi delle nuove pistole arrivate proprio questa settimana della king arms sono le finalmente le 45 peacemaker singola azione da 6 mm troviamo questo modello della humarex da 4,5 mm ovviamente essendo libera vendita non si può vendere online per tutti gli appassionati collezionatori abbiamo finalmente questo modello fantastico tutto in metallo molto ben dettagliato come possiamo vedere single action army 45 con la sua matricola questi pistoli questi modelli sono a green gas quindi molto comodo da caricare tiriamo fuori il nostro proiettile inseriamo il nostro bossolo con 6 mm e richiediamo e dopo di che possiamo sparare un accorgimento da fare quando si mette il gas in questa pistola di tenere la pistola carica in modo che caricando non furiesca il gas in modo che si attiva il blocco altrimenti caricando i pallini e dopo il gas si rischia di sparare accidentamente abbiamo questi due modelli da 6 pollici e da 4 pollici veramente un pezzo della collezione grazie a tutti grazie a tutti